Le spazzole del tergivetro anteriore si sostituiscono nel modo classico. A contatto inserito e motore spento, abbassare completamente la leva del tergivetro per liberare le spazzole dal cofano. Sollevare il braccio del tergivetro e abbassare la linguetta premendo su ciascun lato, quindi spingere la spazzola lungo l'asse del braccio per liberare il gancio. Per riagganciarla far scorrere la spazzola lungo il braccio fino al fermo, quindi accertarsi che sia correttamente bloccata e abbassare il braccio del tergivetro.